amici buongiorno è lunedì oggi è giornata dedicata alla preparazione del paddock arrivano tutti i piloti da tutte le parti del mondo e il pomeriggio presentazione piloti quindi tutti i top rider della gold in presentazione qui lungo la piazza centrale di Sibiu bellissima e primi test lungo il prologo e facciamo conoscenza un po dei piloti che arrivano da tutte le parti del mondo e seguiteci l'enduro continua a stupire io adesso sono al paddock red bull romaniax 2018 sono con un'intera famiglia partecipante alla gara dall'islanda la famiglia ho detto bene padre madre e figlia can you explain why you are here with your family well we just love the sport we like off-road riding and I brought my whole family into the sports like and the riding and motocross and from there I started racing and in the end they came with me red bull romaniax was italicink so we came and first time I've been here first time iron what do you expect about this race I think it will be very challenging to do the race but we are hoping to finish we are going to ride together the whole time and help each other out to be able to make it to the finish super anche io sarò in iron me too and we can make a story telling together adesso andiamo dietro le quinte delle interviste ufficiali che si vedono sul canale red bull tv in questo momento c'è paul bolton pausa pranzo con i ragazzi del nostro team non si parcia non possiamo mancare niente un pranzo tranquillo questo è l'ingresso dei piloti nella piazza centrale di Sibiu maestro è un'altra cosa super way è bella è un'altra cosa 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 I would like now like to start to present the nation to you, so please here we need you to make a bit more more space 53 nations, we are very proud to have so many participants Ukraina Oh, it's so slippery here We are always here Jordan Ecuador Slovenia Israel Argentina Hey guys, I'm from South Africa Let's go Peru Great thanks from Greece Estonia Austria Norway Norway Italy The British Virgin Islands We are from France and we love Romania Indonesia Venezuela England Spettacolo Tapaura Primidi Meduania, welcome to Red Bull Romania Seaview Red Bull Romania This is the first year that Red Bull Romania is part of an international Enduro series I want to show you the best riders in the world that have come again and I would like to start with the King of the Capetians, Graham Jarvis Will your experience give you the edge over the young guns who hope to steal your spot on the podium? Yeah, well I'm very old so I have to use my experience, the other guys have got a little bit more energy so, you know, just gotta do my best Yeah, we wish you all the best Yeah, we wish you all the best Hopefully you go for number Seven No Yeah I'm 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.